Nelle ultime 24 ore sono 421 i positivi al coronavirus rilevati nelle marche tra le nuove diagnosi con un rapporto positivi testati al 12,1%. Ce ne sono poi altri 94 riscontrati nel percorso screening antigenico sulla base di 1.220 test, da sottoporre quindi al tampone molecolare con rapporto positivi testati all'8%, lo comunica il servizio sanità delle regioni marche. Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 5.583 tamponi, 3.477 nel percorso nuove diagnosi, di cui 1.220 nello screening con percorso antigenico e 2.106 nel percorso guariti. Su 421 positivi 224 sono quelli rilevati in provincia di Ancona, 83 a Pesaro Urbino, seguono le province di Macerata con 60, Ascoli Piceno con 27, Fermo con 12 e 15 contagiati da fuori regione. Questi casi comprendono 52 sintomatici, ci sono contatti in setting domestico 93, contatti stretti di casi positivi 145, in setting lavorativo 23, in ambienti di vita socialità 5, in setting assistenziale 3, contatti con coinvolgimento di studenti di ogni ordine e formazione 19, screening percorso sanitario 2. Per altri 79 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Intanto sono 12 i decessi nelle ultime 24 ore nelle marche che fanno salire il totale delle vittime a 2070 dall'inizio della pandemia. Sono morti 5 uomini e 7 donne di età compresa tra 73 e 100 anni, tutti con patologie pregresse.